I componenti dell'oratorio sono anche gli spazi per lo svago e il sano divertimento. Tra questi spazi merita attenzione il luogo denominato bar dell'oratorio. Il bar ha la sua sede nei locali dell'oratorio parrocchiale e viene frequentato da tutti gli appartenenti alla comunità, consapevoli che questa attività fa da supporto alle proposte educative della parrocchia e dell'oratorio stesso. La struttura, ristrutturata nel 2011, con accesso principale su via Re Desiderio, offre numerosi servizi per tutta la comunità, bambini, adolescenti, giovani, famiglie e anche anziani. Al bar dell'oratorio si possono fare tante cose. I più piccoli possono giocare, gli appassionati di calcio possono guardare le partite. Le compagnie si possono ritrovare per la merenda, l'aperitivo, una serata insieme. Si può festeggiare il compleanno e una ricorrenza particolare, ma soprattutto si può stare insieme e vivere la nostra comunità. Iscriviti al canale